Il Tar di Catanzaro annulla l'atto di avvio della Regione Calabria. Da oggi la centrale a biomasse del Mercure non è più in produzione. Il Tar di Catanzaro annullato l'atto della Regione Calabria con il quale era stata riattivata. Sconcerto e preoccupazione dei lavoratori Enel e dell'Indotto. Dino Battista. La centrale termoelettrica del Mercure è ferma. Lo si capisce dei comignoli che non fumano più vapore acqueo. Dopo un investimento di 100 milioni di euro per la sua riconversione a biomasse e sei mesi di produzione il Tar di Catanzaro ha dato ragione agli ambientalisti e a quei comuni, bucani e calabresi, contrari all'impianto. È un impianto che batte tutti i migliori standard di tutela dell'ambiente. In realtà siamo stati fermati ieri da un cavillo burocratico, l'ennesimo cavillo burocratico che da 13 anni ci riporta alti e bassi che non ci consente di funzionare regolarmente. L'impianto è un impianto a biomasse di legno e usa legno vergine, che è un combustibile assolutamente nobile nell'ambito delle biomasse dell'intero settore. La preoccupazione dei lavoratori è il rischio licenziamento. Chiederemo un urgente incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per capire se ci sono le condizioni, secondo noi ci sono, nel mentre si risolve il problema burocratico, si rimettono a posto le carte di mantenere produttivo questo impianto. Qui lavorano più di 100 persone in questa centrale, certamente noi preoccupati come dipendenti perché l'impianto era già in servizio che stava funzionando efficiente al 100%, non inquina. Perché poi i dati si possono vedere? Non lo diciamo noi. Produrre energia elettrica con un impianto, anche se a biomasse, in un luogo come il Parco Nazionale del Pollino, dicono i cittadini, che ha fatto dell'ambiente, della biodiversità, i punti di forza dell'economia e del territorio, è una contraddizione. Come si è diffusa la notizia di questa sendenza, è stato un dandam collettivo. La gente, perché ormai ragioniamo con una testa sola, si è ritrovata qui per vedere innanzitutto se la sendenza è stata eseguita e l'impianto è stato spendo. E poi per festeggiare, che è un momento di vittoria. I lavoratori della centrale e quelli dell'indotto hanno annunciato forme di protesta nei prossimi giorni.